Grazie Presidente. Io sarò breve perché molte delle cose che volevo dire sono già state dette. Giustamente è stato rimarcato come questo PDL è complesso, complesso nel senso che tratta diversi argomenti, ben quattro, di cui certamente il più importante, come ha giustamente ricordato il Consigliere Bianchi, è l'articolo riguardante, la parte riguardante il minimo riflusso vitale. Questo fondamentalmente, come già è stato detto, per quanto riguarda le implicazioni ambientali che ha l'applicazione di questa norma, diciamo così. A proposito di questo, e questo è stato rimarcato anche dalla discussione che c'è stata in Commissione, fondamentalmente basata solo su un minimo riflusso vitale, e dagli emendamenti che ci sono. Da questo punto di vista noi ci sentiamo di concordare con quanto ha appena detto il Consigliere Tomasi. È vero, questo progetto di legge ha molte parti condivisibili, noi lo diciamo, tanto è vero che noi in Commissione abbiamo votato a favore degli articoli 2 e 3, per cui è vero, questo PDL è un passo avanti. Però è anche vero, come dicevo, che la parte del minimo riflusso vitale è la cosa più importante. Anche a noi sembra che sia mancato un po' di coraggio, lei giustamente il Sestrò Terzi l'ha detto. Coraggio perché evidentemente molte derivazioni, concessioni e captazioni rimangono fuori dalla misura in continuo del minimo riflusso vitale e dal monitoraggio dei dati per tantissimi anni. Per cui noi ci troviamo, seppur con questa norma che è un passo avanti, è in dubbio, ci ritroviamo un po' zoppicanti. È come fare un passo zoppo. Per questa ragione noi abbiamo appoggiato la questione di sospensiva. Lei, Sestrò Terzi, ha parlato di speditezza, che sono decisioni importanti. Però ha maggior ragione, se non è una decisione importante, forse ci vuole anche tempo per discuterla. Fare le cose di fretta non vuol dire farle bene, magari vuol dire anche farle bene, però magari non si riesce a trovare tutte le possibili soluzioni ai problemi. Magari con un PDL specifico per questo tema, avendo più tempo per discutere in commissione, È così vero che non si riesce a trovare una soluzione per raggruppare nella misura in continuo anche le concessioni già in essere? Noi abbiamo ripresentato gli emendamenti che abbiamo fondamentalmente presentato in commissione, noi ci siamo stati bocciati. Lo abbiamo fatto perché comunque ci sembra giusto discutere anche qui, in questa sede, di questo nodo, che è il nodo centrale di tutto il PDL. Voi ci direte che non vanno bene, ci direte le motivazioni. Magari qualche emendamento può essere un po' troppo azzardato, come quello che prevede il contributo del 30%. Ma questo è per dare uno stimolo per trovare soluzioni, magari dando un contributo anche minore. Magari incontrando l'Enel, tutte le aziende che fanno questo, magari anche in commissione avremmo potuto farlo, per discutere con loro di trovare una soluzione. E' questo, cioè noi abbiamo avvenuto questi emendamenti perché vogliamo capire se c'è effettivamente possibilità di non fare queste cose e chiediamo anche voi oggi magari un gesto di coraggio. Ci sono i ricorsi, c'è questa spalla di Damocle dei ricorsi. Magari discutendolo di più, magari sarebbe potuto trovare soluzioni anche con i diretti interessati. Si poteva mettere d'accordo anche con loro prima di fare questo dispositivo di legge. Per cui noi ci vediamo dopo per la discussione degli emendamenti. Comunque anche per noi magari un po' più di calma e un po' più di coraggio non sarebbe stato male. Grazie.